Sopravvivenza e ritorniamo... Devo di aver cliccato. Ritorniamo su The Lung Dark, modalità disperazione. Ehi, gente, è questo. Vi vedo il bello sul canale con questo nuovo video. Siamo qui a casa, ragazzi. Ah, beh. Goderci la claustrofobia, so che c'è, non ti nascondere, maledetto. 32%. Quindi, che cosa dobbiamo fare? Beh, mentre attendiamo che le nostre pellicce di lupo... Potremmo sapere che ha 50, più figa di tutte le altre. Questo è quasi secco. Lui no, lui è 50, solo tre giorni. E, dicevo, mentre aspettiamo di curare la nostra claustrofobia... No, mentre aspettiamo che le pellicce si secchino, noi dobbiamo curare la nostra claustrofobia. Quindi, prendiamo queste che ci serviranno, così come i budelli seccati. O altro, o qualcos'altro da seccare? Non credo, perché comunque ho abbandonato tutto nel trailer col banco da lavoro. Anche i budelli, mi pare. E cibo ne ho per un bel po'. L'unico problema sarà per l'appunto tenermi caldo con la claustrofobia. Per curarmi la claustrofobia. Quindi, dovrò raccogliere del carburante, anche se in realtà dovrei avere del carbone. Ne ho tanto di carbone. Ne ho tantissimo di carbone. Abbandoniamo il carbone e, mentre aspettiamo che le nostre pellicce si secchi, non cerchiamo di sopravvivere. Carne non ci serve, non dobbiamo cacciare i lupi, dobbiamo semplicemente aspettare che questa si secchi. Così ci faremo un cappotto di lupo. Quindi torneremo al trailer. E... C'è stato quel rumore. Saprò di sentire qualcosa. E nulla. Quindi, adesso credo che dormirò un'oretta, giusto per recuperare un pochino di calore, e poi esco per la mia avventura. Ma solo dopo aver raccolto un pochino di carnicella fuori. La mia domanda è, posso abbandonare qualcosa che effettivamente non mi sarà utile in questa sopravvivenza? Non credo, in realtà. Potrei portarmela. Potrei lasciare la pistola, così come potrei portarmela. Ora, come ora non mi serve più, perché in realtà la tenevo solo per le emergenze. Principalmente, sto parlando di questi maledetti orsi. Uccidere l'orso, magari spaventarlo nel caso non avesse funzionato la freccia. Ma ora che l'orso l'abbiamo ucciso, altri orsi non dovrebbero essercene nella regione, perciò possiamo muoverci. Non so quanto faccia freddo, ma di sicuro devo recuperare il calore. Evitare che arrivi una bufera. Se adesso arriva la bufera, ecco la claustrofobia e sono finito. Non posso fare altro. Sono letteralmente spacciato se adesso arriva la bufera. Ma conto sul fatto che non arrivi. Posso pregare. Facciamo così. Facciamo delle scommesse per vedere quanto pensate voi che io riesco a sopravvivere. Mai. Siamo arrivati oltre il nostro obiettivo, che era praticamente di 21 giorni, che era la sfida lanciata dai nostri sviluppatori. Ora siamo al 48esimo giorno, che comunque è un nobile traguardo. Ora mi servirebbe... Illuminarmi, perché non ci vedo nulla. Non ci vedo letteralmente nulla. Non so neanche dove mi trovi. Ah, sono sotto. Come cacchio sono arrivato fin qua. Va bene lo stesso. Però non dovrebbe far freddo perché non c'è bufera e soprattutto è pomeriggio. L'unica cosa di cui mi preoccupa è che ci sia qualche lupo a, diciamo, rallentarmi il progresso. Anche se, in realtà, non dovrebbe essere questo il caso. Quanto fa? Meno 18 gradi. Prendiamo una carne di lupo ammuffita e iniziamo a farci strada. Iniziamo a farci strada molto velocemente fino al nostro prossimo obiettivo. Che sarebbe per l'appunto la nostra grotta calducciosa di cui vi parlavo. Credo che con 18 gradi fuori non dovrei avere problemi. A meno che non arrivi... C'è la canzone da Notte di Aurora? C'è la canzone da Notte di Aurora? Sì, sì, è la canzone da Notte di Aurora. E non è neanche notte, se è per questo. Qualcuno dovrà dare delle spiegazioni qui. E non sono io. Non so se ho il sacco a pelo, ma credo di avercelo. Spero di avercelo. Non ce lo dovetti, avrebbi. Tornerò indietro. Non è la fine del mondo, perché comunque la grotta, considerando che ci sono 21 gradi fuori, dovrebbe essere abbastanza calducciosa. Non ne sono proprio convinto, convinto, ma... al 92%. Abbiamo preso un lupo, ecco, di quello sono contento. Eh sì, un lupo, un orso. Sono in pendenza, non ti spaccare nulla, per cortesia. Ma ti sembra? Abbiamo preso un orso, è quello il mio traguardo più grande. Abbiamo anche preso in realtà un lupo, è lì un lupo, un alce. E anche quello non è un brutto traguardo. Il fatto è che, sfortunatamente, la pelliccia d'alce non scalda così tanto come gli altri indumenti. Per esempio una pelliccia di orso, una pelliccia di lupo. Quindi è un bel guadagno, ma... temporaneo, perché una volta che riuscirò a farmi, per l'appunto, il cappotto di alce... di alce, sì, di orso, il cappotto di alce diventerà automaticamente inutile. Ora vorrei arrivare a quella grotta, prima di congelarmi le chiappette. Anche se sembra più che altro un traguardo abbastanza... Abbastanza tosto. Qui posso anche prendere altri conigli, perché dovrebbero essere respawnati, se non sbaglio. È passato un bel po' di tempo e siamo stati tipo, cosa, cinque giorni dall'altra parte? Ma è mica poco. Dimmi che è calducciosa, dimmi che è calducciosa. Oh, 9 gradi! Ma manco fossi in casa! Stupendo! E qui c'è ancora il mio fuocherello con un po' di acqua potabile, che evidentemente mi ho rilasciato per dopo. E il sacco a pelo ce l'ho. Fortunato, maledetto. E perché mi sono portato le pellicce di coso? Perché la mia idea adesso è di riparare, per l'appunto, questi vestitini qua. Stiamo parlando di 1.2 gradi e non è roba da poco. Quindi, prendiamo e ripariamo. Un'altra cosa che potrei... Che potrei e dovrei fare, secondo me, in realtà... e farmi un amo. Ne ho di ami, eh, per carità. Ne ho di ami da pesca, credo. Però mi potrei fare con i budelli seccati per l'appunto questa attrezzatura da pesca. Ami da pesca ce li ho e si possono ottenere dai pezzi di ferraglia. Però questa attrezzatura da pesca posso automaticamente, cioè, alternativamente utilizzarla in caso di mancanza di altri materiali con cui riparare. Per esempio, se io premo ripara, posso scegliere l'attrezzatura da pesca. E anche questa delle condizioni, che ovviamente sono molto minori rispetto a chi dà cucito. Abilità riparazioni. Ok. Non sono migliorato con il cucito, scusami. Sono così scarso nel cucire la roba. Solo livello 2. Non so di essere più avanti, considerando che... Considerando il mio stato. Come va? La claustrofobia non c'è più. È sparita. Non sono stato neanche 10 minuti fuori. La claustrofobia è completamente sparita. Ma per essere sicuri, più che altro... Restiamo un altro po' fuori. Non ce ne frega niente. Qui abbiamo un 0.2 gradi. Anche qui abbiamo un 0.2 gradi. Il 0.1, il 0.2. Ma questo è il più grande. La sfiga più grande è quando fallisci la riparazione. Nonostante l'85% è che perdi tutti e due i materiali. Ed è una cosa che è possibile, vorrei evitare. Cortesemente, signor riparatore, rammendatore esperto. Ok. Quindi abbiamo 8 gradi. Cioè, mi sono riparato i vestiti ma ho più freddo di prima. Come funziona qui? Aiutatemi a capire. Non mi è chiaro questa cosa. Ma una cosa che posso fare è sicuramente dormire un'oretta. Tanto dubito che farà... Scenderanno 8 gradi nell'arco di... Forse dormiamo un'ora, va? Dormiamo un'ora per volta. Dubito che scenderà di troppo la temperatura. In un'ora? Ma non si sa mai. Meglio non rischiare di perdere neanche un punto di salute. Quando non avevo la condizione finale ero anche disposto a rischiare. Sta pian piano scendendo la temperatura. Quando non avevo la condizione finale ero anche disposto a rischiare perché tanto avevo la possibilità di curarmi con qualche stufato e così via. Ora, onestamente, non sono più così convinto. Meno 21 gradi. Potrei farmi una bevanda calda? Uscerò fuori a cacciare qualche coniglio. Giusto per camperare un altro po' qua, no? Se tutto dormiamo un'ora. Magari riesco a beccare qualche coniglio senza... Senza, diciamo, la necessità di utilizzare un tè caldo. Perché tanto è vicino e magari mi va bene. Ok, 5 gradi. Si sta facendo sempre più freddo perché stiamo andando sempre più dentro la notte. Non perché stia arrivando una bufera o altro. Funziona anche così. Ma un'altra cosa che posso farmi è effettivamente... Ok, questa carne di lupo va abbandonata dove fa freddo. Un'altra cosa che posso farmi è effettivamente il... Come si chiama, zio? Dai, hai capito. Non mi viene il nome. Delle frecce improvvisate. Ci sono le frecce improvvisate che sono... Non voglio dire inutili contro i lupi. L'arco può avere sia le frecce buone, con quelle con la punta in fretta, Con la punta di ferro. Punta di fretta. Con la punta in ferro. Oppure può avere le frecce con... Diciamo Hardened Overfire. Delle frecce semplici. Questa si chiama freccia semplice, ma non è semplice. È una freccia avanzata. Ma ci sono anche le frecce semplici. Che sono per l'appunto... Non voglio dire una buffonata, ma... Sono molto forti nell'uccidere... Sono molto forti nell'uccidere... Cacchio. Ecco lì. Nell'uccidere la selvaggina piccola, quindi conigli e... Piccioni giganteschi. Ma... Si spaccano se colpisci i lupi. Non voglio dire che siano inutili contro i lupi, perché comunque hanno una bassa possibilità di spaventare i lupi. Perciò non sono completamente inutili. Però vedo che qui non ho trovato neanche un coniglio. Quindi o non sono responati... O durante questa notte di Aurora si sono cagati addosso e hanno deciso di non uscire. Devo ritornare. Devo ritornare. Ho troppo freddo. Mamma mia, non sono stato neanche un minuto fuori. Neanche 30 secondi. E ho già freddo. Terribile sta cosa del non poter correre. Capisco. Magari potevano mettere che mi toghi ancora di più barra. Ancora più barra di coso. Dello sprint. Però è una roba così, cioè è inguardabile. Devo dire, è una cosa insopportabile e inguardabile. Tutte e due. Tutte e due. Perché altro è inguardabile. Ok, non ho perso neanche un punto di salute. Un altro secondo e l'avrei perso. Fortuna che... Sono ritornato a casa. Ma un peccato. Ho guadagnato solo due stiance, ma... Avrei voluto guadagnare qualcosa di più. Mangiamoci questo, allora. Tanto prima o poi l'avrei dovuto mangiare, no? E... Una cosa che posso fare è... Sicuramente... Spostare questa carne... Dove fa freddo? Gli fa freddo? No? Ok, qui, qui, qui. Lì fa freddo, vuol dire che non marcirà così in fretta. Qui invece... Fa troppo calduccio. Quanto sto? Quattro gradi. Che vorrei temporeggiare, perché magari di giorno riuscirò ad accendere con un... Riuscirò ad accendere con una lente di ingrandimento. Il fuoco. Ora, la cosa positiva dei... Come si chiamano? Delle notte di Aurora... È che... Sì, possono trasformarsi in bufera, ma generalmente non si sovrascrivono. Quindi... Finché non finirà la canzoncina... Della notte di bufera... Non ho nulla di cui preoccuparmi. Nel senso delle bufere. Potrebbe arrivare una bufera all'improvviso. Sì. Ma... Tempo di transizione è un po' più grande. Quindi non c'è motivo di cui preoccuparsi. Un grado. Ok, sta iniziando a far freddo. Cioè, teoricamente il mio sacco a pelo dovrebbe riuscire a coprirmi. Dovrebbe. Ma non voglio contare così tanto su questo. Ora ripara. Usiamo l'attrezzatura da pesca. Oddio! Ah, aumenta anche il tempo di riparazione. Forse è meglio ripararlo. Forse è meglio ripararlo in casa, se è questa la situazione. Non saprei, allora. Se ripararlo qui. Perché un'ora è... Un bel po', eh. Ripara. Ripara. Vediamo che non cambi la temperatura all'improvviso. Ottimo. Quindi abbiamo altri 0.2 gradi. Ok, ora fa freddo. Fa troppo freddo per star fuori. Non so quanto sia stato fuori. Però... Però è meglio non scommettere. Con la mia claustrofobia. Accenderei un fuoco. Però ancora. Voglio aspettare... Il sacco dovrebbe riuscire a coprirmi, eh. Questa differenza di calore. Vorrei riuscire ad accendermi un fuoco con la lente di ingrandimento e... Scaldarmi con questo. Ok. La temperatura sta scendendo, pian piano. 21 kg di trasporto. Dovrò farmi dell'acqua. Ma veramente, mi piacerebbe troppo aspettare adesso il mattino... Per accendere un fuocherello. Fa meno 2. E che vuol dire che non è ancora così grave. Quindi niente. Dormirei un'altra ora a sto punto. Per vedere. 3.6. Quindi anche se dovessi scendere di un grado la temperatura... Non dovrei avere problemi. Vero? Tacco. Si è svanito nel lungo buio. Ok. Quanti gradi? Meno 4. Bene. Ora anche addormendo... Non ho speranze di sopravvivere. O forse sì. Perché addormendo un'ora... Non dovrei perdere con 0.4 troppa temperatura. E forse con la lente di ingrandimento riuscirei ad accendere un fuoco. Vediamo. 0%. Quanto fa? Meno 4. Facciamolo. Sembra stupido ma non lo è. Perché con meno 0.4, meno 0 gradi, un'ora non dovrebbe togliermi troppa condizione. Cioè intendo apporto termico. Vedete infatti? Ora fa meno 6. Non è ancora giorno. Accendi il fuoco. Cosa non si fa per risparmiare un cazzo di... Di fiammifero? Ma adesso... Adesso con 6 gradi... Non posso fare nulla. Adesso con 6 gradi per forza devo accendere il fuoco. Ok. Prendi. No. Prendi coso. Vai fallo. Adesso devo farlo per forza. Avrei sperato di accendere con la lette in ingrandimento ma sfortunatamente non è questo il caso. Quindi... Usiamo la torcia per non sprecare eh. Ovviamente fiammiferi. Non mi fido del mio 85%. Adesso è arrivata la mattina tua mamma. Ma tua mamma. Bastardo. Adesso mi è arrivata la mattina. Va fai gol. E adesso ci scaldiamo bro. E adesso ci scaldiamo bro. Vai tranquillo. Resisti un attimo. Su via. Un fuocherello con un bastoncino. Dubito che ci scaldi abbastanza. Perciò buttiamo altri bastoncini. Cosa è? Ho delle lattine? Ma cazzo mi sono dimenticato la pentola. Però... Alla fine. Il tempo di cottura dell'acqua è lo stesso. Quindi non è che ci sia un guadagno. Semplicemente che... Dobbiamo fare attenzione al resto. Ok. Questo fuoco dovrebbe riscaldarmi abbastanza. Beh. Beh. Dovrebbe riscaldarmi. Abbastanza. Sì. Da non morire di potermia ma... In realtà... Vorrei cucinare anche quella carne. Perché quella carne di lupo me la mangerei. Ma forse mi converrebbe aspettare che mi passino i parassiti intestinali. Ok. C'è qualcos'altro che io possa fare? Affilare un coltello magari? Sì. Perché no? Filiamo un coltello. Il piede di porco lo dovrei lasciare in casa perché... Non mi pare ci siano altre zone in cui si è richiesto. Milton. No. Non mi pare ci siano altre zone in cui si è richiesto Milton. Affiliamo il nostro coltello. Ok. Possiamo acqua non potabile. Quindi posso affilarlo ancora una volta. Affilatura è così elevata? Vorrei che il cucito fosse così elevato. 11 minuti. Se arrivi al 100% di abilità affilatura ti ripara addirittura il 6% di... ...di oggetto come si chiama. Zero gradi. Siamo praticamente al break even point. Acqua. Seleziona. Ok. Questo raccogli. Andiamo. Sembrerebbe che stia iniziando a far freddo. Ok. Questa neve vuol dire che sta per arrivare una bufera. Menù 35 gradi. Il mattino è il momento più freddo. È anche più freddo della notte. Praticamente il momento in cui si passa dalla notte al mattino è meglio se state al coperto. O se siete veramente ben coperti. Perché è il momento più freddo. La mattina presto è il momento prima della mattina. Un paio d'ore. Un po' come il fatto che il tramonto... ...le prime ore... ...le prime ore della notte... ...le poche ore di transizione tra il giorno e la notte sono le più calde. Lo stesso concetto vale per... ...come si chiama? Ora, l'unica cosa che mi potrebbe fregare sono... ...ovvio i parassiti intestinali. Senza un bra di dubbio. Ma anche la mancanza di... ...come si chiama? La mancanza di combustibile. Anche questa è una cosetta che mi potrebbe fregare al volo. Ora, voglio camperare un altro po'. Se devo essere onesto. Qui. Giusto per togliermi completamente il rischio di claustrofobia. Poi potremmo fare delle varie cose a casa. Tra cui aspettare che per l'appunto si secchino quelle pellicce di lupo. E poi finalmente farci... Cacchio, quell'acqua sta per evaporare. Finalmente farci un bel cappotto di lupo per... ...ruscire a stare al calduccio. Ora, 6 gradi. Vedete che si sta pian piano scaldando. Non sta arrivando la bufera stranamente. Mi aspettavo che sarebbe arrivata una bufera, ma... ...altra roba da cucinare non ne ho. Quindi a sto punto approfittiamone per fare altra acqua. Beviamo tutta l'acqua che possiamo. La dobbiamo fare, eventualmente. Queste scorte di... ...questo dovrebbe rimanere a casa. Ma una cosa... Voglio testare una cosa. Non uscirò un po' d'acero, ma non so se ho le pesche. Se le cose che... ...mi danno condizione extra... ...magari non sono state pacciate... ...non siano state pacciate e mi curino. Perché c'è una logica dietro a questo mio ragionamento. Funziona il gioco che... ...ti calcola la condizione in base... ...percentuale, non in base numerica. Quindi, se vai nel punto blu... ...la percentuale massima di salute registrata... ...è più elevata. No? La percentuale di salute massima registrata... ...è più elevata... ...il che vuol dire che se io adesso ho 100 salute... ...100% di salute magari... ...su 110 punti... ...un cibo che mi aumenta la salute a 130... ...il 100% di 130 sarà più elevato. Quindi non mi curerò chissà cosa... ...ma secondo me puoi... ...vai passare questa cosa dell'impossibilità di curarti. Credo. Credo, eh. È una teoria matematica. Potrei assolutamente sbagliarmi... ...ma mi piace credere che... ...sia possibile. Vediamo se c'è qualcos'altro che mi dà condizioni grandi. Le frittelle di lili. Ghiande macinate, pesche. Tutto quello che ti cura salute... ...necessità di mezzo chilo di pesche. Ah, ora qua. Pernice, coniglio e carne di cervo. Questo è carino. Ti cura la claustrofobia più la salute extra... ...però serve 5 di cucina. Cristo santo. Però, eh, servono 3... ...non sono tanto i 3 tipi di carne... ...a disincentivarti. In realtà la carne di cervo non è poi così facile da ottenere, eh. Ma neanche questo. Non bisognerebbe sottovalutarlo. Ok. Mi sto scaldando abbastanza. Questo per la colpa della mia cazzo di afflizione. In condizioni normali, senza ostagelite, sarei già al massimo della mia temperatura. Al massimo del mio senpai. Perché mi stesse usciendo? Al massimo del mio senpai. Ok, 2 minuti. Acqua. 10 minuti. Per un minuto, maledizione. Però guarda il lato positivo. Riesco a guadagnarmi una torcia, vero? No. No, perché... La torcia costa 10 minuti. Ok. Tanto eventualmente mi servirà. Dormirei un'oretta, giusto per recuperare un po' di calore. Tanto dovrebbe rimanere il calore della fiamma. E... Cazzo. Non ho ragionato. Non ho ragionato perché comunque rimane sì il calore della fiamma, ma... Io dovevo viaggiare fino a casa. Rassiti intestinali curato. Per ora. Curato. Per ora. E poi non riesco a capire. Come cazzo fa una grotta del genere a essere meno claustrofobica? Come fa ad essere meno claustrofobica di... Come si chiama? Di una casa. Bella, accogliente e calducciosa. E c'è meno un grado, maledizione. Potrei dormire un'altra ora allora se c'è meno un grado. Torniamo un'altra ora, togliamoci completamente il rischio che ci sia... Che ritorni quella claustrofobia. E più che altro recuperiamo un po' di calore. Perché dobbiamo tornare a casa. Che è successo? Cazzo. Sta arrivando una bufera. Però è ancora nelle fasi iniziali. Sarebbe rischioso, è stupido. Però potrei provare a tornare a casa in fretta. Perché comunque essendo in discesa, meno che la parte iniziale, dovrei essere più veloce. Quindi scendo in fretta da quella cavolo... Da questa cavolo di montagna. Nel ritorno a casa, prima che la bufera sia bella forte, lasciamo il carbone qua insieme a tutta la legna che ci servirà per gli altri momenti in cui ci dovremo curare. Questa maledetta... Facciamoci un giro. Sì, questa è la fase iniziale della bufera, quindi non è ancora forte. Possiamo provarci. Rischiamolo. Stupido, ma non così tanto. Perché essendo la fase iniziale non dovrebbe essere troppo fredda. Meno 25 gradi. Stamina in realtà mi converrebbe tenerlo per quando... Oh cacchiarola. Oh cacchiarola. Ho perso il mio coraggio. Meno 41 gradi. Tu sei fuori di testa. Tu sei fuori di testa. Meno 41 gradi. Ho perso il mio coraggio. Non ci arrivo. Non ci arrivo senza perdere vita. È semplicemente... Semplicemente matematica. Però il calore sta aumentando. Così quasi mi faccio un'altra oretta di sonno a sto punto. Va, fai ancora. Vediamo. Poi cosa è sto rumore? Sembra che ci sia una cascata, maledizione. Se qua ci sono 7 gradi vuol dire che fuori ce ne sono almeno meno 20. Dobbiamo aspettare che passi la... Passi il vento almeno. Siamo in pieno mezzogiorno e sfortunatamente non è il momento più caldo della giornata. Il momento più caldo della giornata è quando tua mamma mi tocca. Il momento più caldo della giornata è sfortunatamente il tramonto. Ci manca un po' di tempo fino al tramonto. Devo fare attenzione perché queste sono le mie ultime provviste. Che è sto rumore? Che è sto rumore? C'è un branco di serpenti qua dentro. Vediamo quanto fa freddo. Temperatura dell'aria è meno 6. Il che vuol dire che ci sono almeno meno 21 gradi fuori. Se i miei calcoli sono correttissimi. Potrei tornare a casa. Sono 19 gradi. Posso fare una cosa nel frattempo, sai? Ho sempre voluto farvelo vedere. Non so che non avevo la possibilità. Ora mi sembra proprio il momento ideale per l'appunto per testarlo. Ed è... Ho letto un commento che mi diceva Ma perché non provi ad accendere un fuoco vicino ai bastoni... Ma come si chiamano? Vicini un fuoco vicino a coso? Ai... Dai, hai capito. Vicino ai rami giganti per tagliarli. Così ti scaldi mentre tagli la legna. Allora... Il punto per cui non lo faccio... È perché punto 1... C'è una questione di durata. L'unico modo per l'appunto... Per avere una resa positiva... In fatto di durata del fuoco ma non di calore... Di temperatura emessa... È utilizzando del carbone. Se tu non utilizzi del carbone... Tu per combattere quel freddo che c'è là fuori... Dovresti utilizzare almeno 25-30 bastoncini. Considerate che ogni bastoncino... Ti aumenta la temperatura di un grado. Quindi se ci fa meno 25 gradi... Vuol dire che dovrai utilizzare 25 bastoncini in totale per scaldarti. Questi li posso lasciare perché li ho portati apposta qui. Per questo. E morale della storia è che... Se tu devi utilizzare 25 bastoncini per un abete... Stiamo parlando di un bastoncino che dura 9 minuti... Tutti l'uno... 10 in realtà... Ma facciamo 9 per il bene della matematica. Per complicarci la vita insomma. Stiamo parlando letteralmente di 90... 180... 225 minuti. Quindi sono praticamente quasi 4 ore di fuoco. Ok, se ci sono meno 25 gradi... Ti ritornano 45 minuti di fuoco. In cambio di un fiammifero e magari... Vabbè, se sei fortunato... Utilizzi la lente di ingrandimento. E quello può funzionare. Ma... Adesso per esempio... Io potrei accendere con il carbone... Per l'appunto un fuocherello... Al volo... Come vi volevo far vedere. E utilizzando un bastoncino in carbone... Se riesco a combattere la temperatura che c'è là fuori... Effettivamente con un abete... Che è questo ramo che ho visto prima... Mi ritornano 4 ore e mezza di fuoco... Quando in cambio ne ho utilizzato... Sì... Un carbone che dura un'ora... E un bastoncino che dura 9 minuti. Quindi un'ora e 9 minuti di fuoco... E in cambio me ne tornano 4 e mezzo. L'unica sfiga... E che per l'appunto l'abete... Non è un legno caldo... Nel senso... Che significa... Non è un legno che posso utilizzare per scaldarmi... Non lo posso abbracciare per scaldarmi... Sto dicendo che... L'abete in realtà è uno di quei combustibili... Che di apporto termico... Ti dà solo... 2 gradi o forse addirittura 1... Come i bastoncini... Il cedro te ne dà 3... Per ogni cedro che metti... E il carbone te ne dà più 20... Per l'appunto... Quindi se ti devi scaldare durante una bufera... Il carbone è il tuo miglior amico. Cristo santo... Non so se riuscirò a scaldarmi abbastanza per muovermi. E quindi adesso io posso tranquillamente tagliare... Perché durerà un'ora... A meno che non arrivi una bufera... Posso tagliare... Oddio non ho abbastanza calorie effettivamente... Ora che guardo... Ok chiarola... Questo mi dà 21 gradi... Vuol dire che ci sono meno 28 gradi là fuori almeno... Almeno... Ok... Vorrei ritornare a casa... Ad essere onesti... L'ho preso il sacco a pelo... Sì... Ora mi prendo una torcia... Mi faccio una veloce corsa fino a casa... Con il mio combustibile appena guadagnato... 13 gradi... Dovrei farcela... Dovrei farcela senza perdere salute... Nonostante la barra della mia... Rescura sia così... Dimezzato... Beh ci sono meno 15 gradi... È semplicemente la torcia che mi tiene 2 gradi di... 3 gradi addirittura di calore... E quindi niente... Se hai del carbone... Nei momenti migliori della giornata... In cui per l'appunto puoi utilizzare un solo pezzo di carbone... Ti ritorna... Se invece già devi utilizzare 2 pezzi di carbone... Capisci che... Rinunci a 40 gradi di temperatura... E questa è secondo me la parte peggiore... E soprattutto rinunci a 2 ore di fuoco... In cambio per l'appunto di nuovo di 4 ore e mezza... E capite che la resa non è poi così... Non è poi così elevata la resa... Sotto le condizioni giuste sì assolutamente si può fare... E poi dopo tutto... In certe situazioni è molto meglio avere la durata del carburante... Piuttosto che per l'appunto... La quantità di calore... Per esempio il carbone... Adesso se io vado in casa... Ci faccio niente... Mentre se invece c'ho la beta... Posso cucinare... Posso farmi gli stufati... Posso fare un botto di cose... Quindi... È molto situazionale... Devi decidere con grande attenzione... Se vuoi sacrificare del carbone... Perché per esempio se devi fare un lungo viaggio... È molto meglio avere 300 grammi di carbone... Che ti scadono 20 gradi per un'ora... Piuttosto che... 3 pezzi di abete da 3 chili... Che in realtà ti danno cosa? Cosa ti danno? 3 abeti... Ti danno niente... 3 gradi ti danno... Ciacchio... In realtà una cosa che consiglio di fare... Quando ci riceve il tempo... Su Interloper... Lo consiglio sempre... È di utilizzare la lente di ingrandimento... O comunque delle torce... Per accendere dei fuochi... Sì sacrifichi dei bastoncini... Ma avere l'accensione del fuoco a livello 5... Vuol dire che il carburante... Che utilizzerete in futuro... Durerà di più... Quindi alla fine... È un ritorno che... Non voglio dire... Non abbia prezzo ma... Un ritorno che... Vale la pena... È un investimento più che altro... Utilizzare quel... Quel carburante... Adesso lascerei tutto il carburante qui... Lascerei sì o no... 6... Dovrebbero bastarmi... Qua mettiamo 3... E soprattutto... Trasferiamo questo... Quindi ora che ci sono... Non fa poi tanto freddo... In realtà potrei rifarlo... Se ci penso... Questi libri in realtà... Posso anche lasciare tutti lì... Potrei rifarlo... Potrei bruciare... Un altro... Allora... Ho preso solo budelli seccati... Potrei rifarlo in realtà adesso... Accendere un fuoco... Mi porto una pentola... Mi faccio anche dell'acqua nel frattempo... Accendo un altro fuoco... Taglio dei rami se ci sono là fuori... In cambio di uno di carbone... Così avrò della durata... Dobbiamo aumentare per l'appunto la nostra resistenza il più a lungo possibile... Avere della legna che dura tanto... Come vi dicevo... Ci aiuterà a... Ci aiuterà a... Cucinare di più... Ad avere più fuoco... A fare gli stufati e così via... Una cosa che voglio provare... E' un faremi di nuovo lo stufato dell'avviatore... Ma non so se ho... Effettivamente... Dalla mia parte... Coso... Delle pesche... Ah, ce l'ho delle pesche... La grande... Perché... La mia matematica... La mia matematica mi dice... La salute viene calcolata... In termini percentuali... Non termini numerici... E se tu hai 100% di salute... Anche se hai la salute massima aumentata... Il 100% di salute su 110 di vita... E... X... Capito? Quindi 100% uguale a 110... Se io mangio per esempio... Un stufato di pesche... Con l'avena Avery... Tipo questo che mi cura... No, dov'è? Pornici dell'avviatore... Che mi dà un po' di salute... Questo mi aumenta per l'appunto la mia condizione massima... Io ho come l'impressione che questo stato... Salvi la tua percentuale di condizione... Quindi se quella roba lì... Mi aumenta la salute massima... In termini numerici... Vuol dire che io passo da magari... 110 a 130 di salute... Seguimi, seguimi... Quindi passando da 110 a 130 di salute... In termini percentuali... Quel 100% che vale prima... Vale per più salute... Che vuol dire che... Dovrei curarmi... Io credo che in realtà... Questa roba ti impedisca di curarti... Con riposo migliorato... Le varie cose, no? Ma... Sia calcolata... Sulla percentuale di condizione... E non sui termini numerici... Sono pronto a rischiare... Tanto prima o poi lo devo mangiare... Quelle pesche... Quindi... A questo punto... Facciamo quell'investimento... E comunque... Alla fine... C'ho anche lì... Come si chiama? Come si chiama? Lo sciroppo d'acero... Quindi... Lasciamolo qui... E... Nulla, vediamo... Ora... Voglio vedere quanto fa freddo là fuori... E se funziona... Meno 19 gradi... Secondo me si può fare... Secondo me si può fare... Ma è una cosa che possiamo fare... Nella prossima puntata... Vi ringrazio per aver guardato... In cui vi vorrò vedere... Nella prossima puntata di The Long Dark... Non dimenticate che siete migliori... Vi auguro il meglio... Vi ringrazio per aver guardato...